Io arrivo dalla Capigruppo in Senato, noi abbiamo chiesto una commissione di inchiesta parlamentare Ma l'ha approvata Renzi, no? L'abbiamo proposta in Senato, è stata protocollata con le firme di Forza Italia e della Lega, abbiamo fatto questa richiesta Oggi la maggioranza, e non c'è né Lega né Forza Italia, ci ha detto di no Come ha detto di no? Mi sembra una cosa lunga sinistra La commissione di inchiesta non è una priorità